Una formidabile occasione per promuovere il territorio, in particolare la spiaggia di Fondachello, è stata la manifestazione di pesca sportiva di lettentistica amatoriale, svoltasi lo scorso weekend nello specchio d'acqua della frazione marinara di Fondachello. È inserita nel campionato italiano surfcasting a coppia, alla quale erano presenti il presidente Rosario Barbagallo e segretario provinciale della pesca Nunzio Ficarra. Un briefing presso un noto locale di Fondachello con gli atleti prima della manifestazione e poi due giorni intensi di sport per i competitori e gli amanti della pesca che hanno seguito con molto interesse l'evento sportivo che si è disputato lungo la splendida costa ionica, ricadente nel territorio mascalese. A prendere parte alle gare, 100 coppie di atleti facenti parte della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque, presieduta da Maurizio Natucci. Prima assoluta la coppia composta da Marcello Messina e Salvatore Drago della società Marmora APS, direttore di gara Davide Molino e giudice federale di gara Antonino Zagarini. Ieri nel Palazzo Comunale di Città, gli organizzatori e i responsabili provinciali hanno consegnato al sindaco di Mascali Luigi Messina, all'assessore Paolo Virzi, al vice comandante di Polizia Municipale di Mascali, Santo Vassallo, delle targhe per la proficua collaborazione e per la disponibilità dimostrata. Un'occasione, ha detto il primo cittadino mascalese Messina, per promuovere il nostro territorio, le sue bellezze paesaggistiche e naturali e la possibilità di stare a stretto contatto con l'ambiente marino.